E' partita oggi una novità, ovvero l'istituzione dell'USCA Case di Riposo. E' un'USCA che ha delle particolarità rispetto alle altre, ma che fa da sintesi tra le professionalità dedicate in atto alle USCA per quelle che sono le attività di controllo ai cittadini e la peculiarità che hanno invece i team Case di Riposo che sono più dedicati appunto a questa categoria di soggetti che sono ospiti di Case di Riposo e di comunità alloggio. La caratteristica è che questo team, questa USCA Case di Riposo sarà disponibile anche nei giorni festivi ed è un team dedicato, cioè un team fisso che proprio è attribuito a questa USCA. Avrà anche un numero di telefono a cui potranno rispondere e oltre ai medici che saranno dedicati a queste attività, saranno presenti anche degli psicologi per quello che serve come supporto non soltanto agli ospiti e alle case di riposo, ma anche ai familiari, ai congiunti, a coloro che si prendono cura di questi soggetti fuori dal momento della degenza.